non c'era una barba che lo gli ha andato ma quello è l'intero che c'era anche qua eh si, e si capete, ecco se l'ho andato con la testa così ma adesso lo rimedremo la parte del dici poste, tutto immagine e la trama e vediamo, vediamo dai, i cavalli me ne spiega i miei venite, la più forte, non puoi riuscire qualche così dai